buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fanu tv iniziamo la giornata con la lettura dei giornali ma prima procediamo attraverso l'almanacco del giorno e vediamo il santo che si festeggia oggi santa giacinta marto chi era santa giacinta marto ebbene era la pastorella di fatima che insieme al fratello francisco e alla cuginetta lucia videro la madonna era il 13 maggio del 1917 verificata da papa giovanni paolo o secondo nello stesso giorno del del 2000 fu poi santificata da papa francesco nello stesso giorno sempre il 23 maggio la ricorrenza appunto della prima visione di fatima delle 2017 quindi una santa molto molto attuale ma che fu venerata fin dall'inizio insomma fin quando si capì che quello che aveva visto la pastorella era una verità che poi è stata dimostrata da tanti tanti miracoli che sono accaduti a fatima le previsioni del tempo vediamo subito ecco la grafica tempo variabile a tratti instabile e nelle aree meridionali con deboli fenomeni sparsi i venti saranno moderati da nord sulla costa da sud ovest nell'entroterra la temperatura 5 la minima 12 la massima ormai si è stabilizzata da diverso tempo il mare è leggermente mosso e vediamo che il sole nascerà questa mattina anzi sta nascendo alle 7 0 1 contemporanea con l'inizio della nostra rassegna e tramonterà alle 17 e 40 ed ora possiamo tranquillamente dare un'occhiata alle pagine dei giornali partendo oggi dal corriere adriatico sulla pagina di fano e vediamo che subito si parla di una conferenza stampa particolarmente interessante perché hanno dato un'iniziativa che coinvolgerà tutta la città ovvero l'attesa e l'organizzazione dell'arrivo della tappa del giro d'italia che vedrà appunto fano come terminal infrastrutture lifting per la città però il tracciato del giro all'interno della città perché questa è la novità della tappa di quest'anno non ci sarà soltanto un arrivo a mordi e fuggi ma sarà un arrivo che vedrà i corridori passare attraverso i punti più significativi della nostra città il sindaco assicura sarà un percorso che valorizzerà le nostre bellezze un vero spettacolo dunque ci saranno molti lavori da fare il sindaco emblematicamente in conferenza stampa ha dichiarato che i residenti delle strade che attraverseranno i corridori sono fortunati potranno esultare perché queste strade saranno ovviamente asfaltate così come è capitato anche nelle precedenti tappe che hanno fatto che hanno dato l'arrivo a fano il traguardo sarà in viale gramsci questa volta più vicino all'arco di augusto rispetto alla passata edizione quella del 2012 fano o sta ospitando la tappa per quattro volte lo vediamo qui e menzionate queste tappe sul corriere adriatico i precedenti parlano del 1962 con l'arrivo in viale cairoli sul lungomare del lido poi ancora nell'83 e nel 2012 questo è un po i trascorsi ed ora nel 2024 ebbene il traguardo dicevo in viale gramsci più vicino all'arco di augusto e poi e poi ne sapremo di più sabato prossimo quando alle 17.30 al teatro della fortuna ci sarà la rivelazione di tutto il programma che correderà questo importante evento che vedrà fano proiettato grazie ai mass media a livello internazionale insomma le bellezze di fano verranno promosse con questa grande iniziativa e tutto si dipinge di rosa. Ed ora passiamo alle altre notizie ieri c'è stata una animata riunione dei commercianti di piazza Andrea Costa nella sala della concordia dell'amministrazione comunale dove i commercianti hanno incontrato l'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori e l'assessore al commercio Etienne Lucarelli oltre al dirigente dei lavori pubblici Federico Fabri. Che cosa volevano i commercianti? Ebbene volevano saperne di più e soprattutto volevano rassicurazioni per quanto riguarda la durata dei lavori che in questo momento interessa piazza Andrea Costa. Piazza Andrea Costa è coinvolta in una serie di lavori di indagini di carattere archeologico. Siamo in un punto molto sensibile per quanto riguarda la storia di affanese nel centro della città, però gli scavi e il prolungarsi dei lavori danneggia ovviamente chi nella piazza esercita il suo commercio. Tutti, come tutti gli ambulanti che svolgevano, che avevano un posto nella zona tra la pescheria e la zona verso, diciamo così verso il corso della piazza, sono stati spostati, sono andati in piazza a veduti, però ora le indagini si stanno prolungando e probabilmente dureranno ancora un mese. Infatti i ritrovamenti che sono stati effettuati sono considerati importanti, quindi devono essere studiati, devono essere approfonditi. Però se per quando la città è un guadagno in termini di bellezza, di decoro e di socialità, questo progetto di piazza Andrea Costa per gli ambulanti è una perdita di lavoro in una situazione peraltro già in crisi per quanto riguarda il commercio, quindi una situazione molto molto delicata. Ebbene, alla fine si sono, dopo aver studiato diverse soluzioni non gradite ai commercianti, si è deciso di magari prolungare un po' i lavori, però procedere zona per zona. La piazza è stata divisa in quattro zone, ora si procede nell'attuale e poi una volta lì, conclusi gli scavi, la ditta arriva, fa la pavimentazione e poi procedono, intanto gli altri procedono su un'altra zona, gli altri sarebbero gli archeologi, procedono su un'altra zona e poi lì interverrà la ditta. E così via via per tutte le quattro zone in cui è stata divisa piazza Andrea Costa. Parliamo ora di politica, parliamo di politica perché vediamo l'immagine di Luca Serfilippi che è sempre più prossimo a essere candidato formalmente di tutto il centro-destra, l'esponente della Lega e nel top classifica, ecco, al vertice della classifica per essere nominato candidato sindaco. Serfilippi, il consigliere, ha un passo dalla candidatura. Oggi si riunisce il centro-destra, corsa sindaco quasi scontata, primarie PD a fondo dei Cinque Stelle. Allora, ci sono due notizie, uno che ormai è scontata la candidatura di Serfilippi, quale candidato sindaco di tutta la coalizione del centro-destra. L'altra notizia invece sono delle rimostranze che il Movimento Cinque Stelle effettua nei confronti del Partito Democratico che ha deciso risolutamente di andare alle primarie ed è questa la divisione che ha impedito un'alleanza tra i progressisti e il centro-sinistra. Ebbene, invece di pensare ai programmi, dicono i Cinque Stelle, invece di cercare di trovare un accordo su quello che c'è da fare per i prossimi anni per la città di Fano, si è insistito risolutamente sulle primarie, cosa che è stata rifiutata dai Cinque Stelle, ma anche dagli altri partiti del centro-destra, del centro dei progressisti, scusate. E quindi la situazione si è definitivamente rotta e ora sarà molto difficile ricucirla. Questa è un po' l'analisi politica che scaturisce da questo articolo. Andiamo avanti e parliamo invece della situazione ambientale di Montegiove. Una situazione precaria perché, a parte le strade sconnesse, in periferia le strade non è che sono nelle migliori condizioni, ma tutto questo susseguirsi di intense piogge, di lunghi periodi di siccità, ha provocato dei sommovimenti del terreno, in modo particolare nelle scarpate che costeggiano le strade, che hanno messo in pericolo anche le alberature. Alberature le cui radici sono emerse perché la terra, insomma, è crollata e questo ha un po' reso difficile la loro stabilità, pericolosa la loro stabilità. E in questo caso abbiamo i residenti che insorgono perché le segnalazioni effettuate spesso all'amministrazione comunale sono state senza risposta. E insorge in modo particolare Franca Rossi, che tra l'altro è assessore alla sanità del comune di Monbaroccio, che richiede interventi subito, interventi immediati, perché insomma questi alberi pericolanti possono cadere sulla testa delle persone. Le persone che passeggiano avvertono gli scriccoli e possono scappare, ma chi va in bicicletta, chi va in macchina, probabilmente potrebbe vedersi arrivare un grosso tronco, sono querce centenarie sulla testa e quindi la cosa non è tanto simpatica. Una buona notizia per quanto riguarda l'incidente del biker di Fossombrone, che stava praticando uno sport estremo, il downhill, quello che con la bicicletta va su e giù per le strade montuose, quelle più pericolose, quelle più scoscese, quelle più impervie per quanto riguarda buche, avvallamenti eccetera. Ebbene è caduto nelle Cesane ed ora sembra che le sue condizioni nell'ospedale di Torrette di Ancona stiano migliorando a 16 anni. Ebbè è una buona notizia, è stato trasportato purtroppo lì in codice rosso, ma sembra che non sia più in pericolo di vita. Di vampa il rogo in cucina a Marotta, svegliati di notte dal fumo, moglie e marito si rifugiano in terrazza in attesa dei pompieri e sono lievemente intossicati. Per fortuna hanno avvertito che qualcosa non andava mentre dormivano nella loro abitazione, questi marito e moglie, e hanno avuto la forza perché erano già un po' intontiti dal fumo o dall'ossido di carbonio, hanno avuto la forza di rifugiarsi nel terrazzo all'aperto e qui hanno atteso l'arrivo dei vigili del fuoco. Comunque questo appartamento che si trova in via Rovani a Marotta è stato dichiarato inagibile. 3 milioni per chiese e ponti alluvionati, l'annuncio del deputato Baldelli, fondi per Cagli, Pergola e Cantiano, sostanze che arrivano nei centri dell'entroterra. 3 milioni di euro in arrivo per il recupero della chiesa di Santa Maria delle Tinte a Pergola della collegiata di Cantiano del Ponte Grosso di Ponte Riccioli sul fiume Burano e del Ponte Romano a Monte Rosso di Sassoferrato, gravemente danneggiati tutti dalla alluvione del 15 settembre del 2023. Arrivano sostanze per il ripristino di queste opere importanti anche dal punto di vista storico. Passiamo a Senigallia e vediamo l'esito di un processo, di una vicenda drammatica, di quelle vicende sulle quali è difficile esprimere un giudizio. Un marito ha ucciso la moglie, potrebbe sembrare una cosa veramente esecranda, una cosa terribile, è un dramma veramente terribile, però insomma c'è qualcosa che bisogna capire bene. Ebbene questa signora, si tratta di Valeria Baldini, era affetta da Alzheimer e il marito Mario Giulia, Marino Giuliani la stava curando da tanto tanto tempo. Ebbene che cosa è accaduto? Secondo la versione del marito, la donna che a causa della sua malattia dava in escandescenze, urlava, il marito le ha messo la mano sulla bocca per cercare di quietarla, purtroppo la pressione è stata superiore alle forze della donna, la quale è morta soffocata. Ovviamente il marito non voleva assolutamente arrivare a questo punto, l'ha amata sempre, però è successo quello che è successo. Ha avuto quattro anni e mezzo dal giudice, aveva messo una mano sulla bocca della moglie malata per non farla urlare. L'accusa omicidio preterintenzionale, la settantasettenne era affetta da Alzheimer. Questa è un po' la sintesi di questo articolo. Vediamo ora qualche notizia di Pesaro, si parla dei rondò sulla bretella di Muraglia, sulla bretella si accelera. Amplia, che è la ditta partecipata della società Autostrade, dice il 29 febbraio apriamo altri tre rondò. Il 29 febbraio è prossimo ed è proprio il giorno dell'anno bisestile. L'annuncio della partecipata di Autostrade, decine di lavoratori in via Lombroso. Ebbene, proprio in questo periodo sono scattate le modifiche viarie contenute nell'ultima ordinanza che ha previsto il restringimento di via Lombroso, con il mantenimento, in ogni caso, della circolazione in entrambi i sensi di marcia, senza transiti alternati e con il limite rigoroso dei 30 km, allora perché la situazione è lì, in quell'incrocio, è piuttosto complessa, in quel punto di strada è piuttosto complessa. Installato intanto sul ponte del Foglio, scusate, installato il ponte sul Foglia per un itinerario in bicicletta, subito protagonista di tanti selvi curiosi, hanno così immortalato questa nuova struttura che spicca nel panorama del territorio. Ebbene, un ponte ciclopedonale sul Foglia è arrivato a Tombaccia. La sua struttura in acciaio spunta, ben visibile sulla stradina laterale a Via del Carso. Ebbene, è una struttura importante su un itinerario ciclopedonale che si congiungerà con la zona di Via Gradara e Via Fossombrone, quindi un itinerario ancora più agevole per coloro che vanno in bicicletta. Ero innamorato di Pierpaolo, lui mi ha rifiutato e io l'ho ucciso. Sono le ultime dichiarazioni di Michael Alessandrini che ha ucciso Pierpaolo Panzieri, vi ricordate il delitto che è accaduto un anno fa, il 20 febbraio, ucciso con 23 coltellate. L'ultima versione fornita davanti al giudice è stata una versione che tira in ballo un motivo passionale, motivo appassionale a cui non credono i legali della famiglia, non credono gli amici, non crede la famiglia, ci prende in giro, hanno dichiarato. Ebbene, questa versione è in quest'ultimo articolo a fondo pagina. E poi il Comune di Pesaro ha a che fare con le antenne, le proteste dei residenti. L'assessore Maria Rosa Conti annuncia un piano B, ma sarà un'eredità per la futura giunta. Ormai siamo agli sgoccioli delle tornate amministrative. Un altro incidente stradale è accaduto a Pantano. Un'auto si è ribaltata per lo schianto all'incrocio. Un pauroso incidente che si è verificato all'incrocio tra le vie Menotti e Manara, dove probabilmente a causa di un mancato rispetto della precedenza, una Hyundai Atos e una Opel Astra si sono urtate. Ebbene, una delle macchine, la Hyundai, è stata sbalzata, catapultata, arrotolato. È rimasta all'interno la guidatrice. Immediati sono arrivati i soccorsi, ma per fortuna quest'ultima è riuscita ad uscire con i propri mezzi. Comunque le sue condizioni, pur essendo stata ricoverata all'ospedale, non sembrano gravi. Vediamo ancora la pagina di Urbino, dove la questione di Canavaccio ora finisce in Parlamento. Insomma, questa variante urbanistica che intende trasformare una delle zone molto sensibili dal punto di vista archeologico in zona industriale, viene contestata acerbamente. Europa Verde in calza con la deputata Zanella. Quella è un'area da salvaguardare. Ebbene, ci sono anche delle dichiarazioni di Carrabs, che ovviamente dal punto di vista ambientalista, verde propende per la salvaguardia di quella zona, e non per la sua trasformazione in zona industriale. Chiudiamo il Corriere Adriatico e ora apriamo il resto del Carlino. L'apertura è dedicata alla riunione dei commercianti di Piazza Andrea Costa. Emergenza scavi archeologici in Piazza Costa. I commercianti, noi non ci muoviamo di qui. Non vogliono essere dispersi. Parte magari in Piazza Veduti, parte al Pincio, come era stato anche ipotizzato in un primo momento. No, vogliono restare tutti uniti perché il commercio è lì e la gente sa dove andare senza dover andare da una parte all'altra della città. Respinta alla proposta degli amministratori fanesi di trasferire le attività in Piazza Veduti e al Pincio per velocizzare i lavori. Preferiamo magari aspettare qualche giorno in più ma di restare in questo posto più che magari essere dispersi ed essere poi non trovati dai nostri clienti. Questa è un po' la notizia che è poi la decisione che è emersa dopo la riunione di ieri. E c'è un importante, importante convegno purtroppo non a Fano, non nelle Marche ma a Roma, sull'Isippo. Speriamo che l'Isippo ritorni in auge perché ogni tanto quella vicenda di questo capolavoro che dovrebbe essere restituito dall'America in Italia cade nel dimenticatoio poi magari risorge, insomma non è che costantemente viene tenuto alla ribalta. Ebbene, questa notizia ci informa che il Ministero promuove un incontro sull'atleta venuto dal mare. L'atleta venuto dal mare è il titolo di questo convegno che si terrà giovedì prossimo nel complesso del San Michele a Roma con un titolo, con un percorso diciamo così di lettura dell'Istituto Centrale per l'Archeologia in cui sarà presentato il volume Un atleta venuto dal mare dedicato alla statua come nota come l'atleta di Fano. Il volume raccoglie gli atti di un convegno promosso dalla professoressa Rachele Dubbini dell'Università di Ferrara anche con la collaborazione del Centro Studi Vitruviani di Fano. Ebbene, la notizia è stata poi evidenziata soprattutto dal presidente del Centro Studi Dino Zacchini. E parliamo ora di sanità un argomento questo con cui molte molte persone spesso si confrontano e in questo caso viene posto alla ribalta la vicenda di una signora si tratta di Lara Giommi di 44 anni affetta da un tumore che deve fare accertamenti ogni sei mesi purtroppo ma da due anni non riesce a prenotare gli esami mio padre è morto a 59 anni della mia stessa malattia ha detto a me è stata diagnosticata ad appena 38 anni si tratta di una malattia della pelle un melanoma allo stadio 2A ovvero un tumore della pelle con uno spessore di oltre 2 mm insomma una cosa piuttosto grave e dovrebbe essere curata tempestivamente e nel migliore dei modi purtroppo dice la signora sono due anni che non riesco neppure a prenotare gli esami di controllo total body PET e TAC con mezzo di contrasto che dovrei fare ogni sei mesi per almeno cinque anni dall'intervento e poi con cadenza annuale fino al decimo anno purtroppo questo percorso di cura non viene degli agnosi soprattutto non viene fatto e qui qualcuno dovrebbe intervenire e poi vediamo anche che sul resto del Carlino si parla del Giro d'Italia a teatro l'evento dell'evento sabato prossimo pomeriggio tutti coloro che vogliono saperne di più del Giro d'Italia ma anche di come poi Fano si appresta a preparare questo grande evento questa grande manifestazione possono andare a teatro l'ingresso ovviamente è libero in pigiama sul balcone per salvarsi dal fuoco e la famiglia che si è ritirata all'esterno per l'incendio che è accaduto nell'abitazione di via Rovani a Marotta e poi vediamo invece che per quanto riguarda i carnevali storici al via in regione l'iter per la legge l'obiettivo è dare certezza sui finanziamenti ed è stata ascoltata dalla Commissione della Regione anche la Presidente dell'Ente Carnevalesca di Fano Maria Flora Gian Marioli vediamo ora anche altre notizie sul resto del Carlino siamo a Dormino e vediamo che anche qui si parla dell'affaire Canavaccio che approda a Roma dobbiamo preservare la natura conversione da area agricola a zona industriale i Verdi riferiscono l'interrogazione presentata alla Camera e qui ci sono anche qui le dichiarazioni di Carrabs che dice che bisogna ripartire dal settore agroalimentare altre realtà lo stanno già facendo poi vediamo in conclusione le notizie che pubblica il resto del Carlino per quanto riguarda Pesaro si apre con il resoconto dell'ultima udienza del processo contro Michael Alessandrini la verità dell'assassino rivelata ieri in udienza non avevo premeditato niente ha dichiarato il coltello ce l'avevo perché a Milano ero stato rapinato ma poi non risponde alle domande e se ne va dicendo che era stanco e anche ieri sera Fano TV ha relazionato ampiamente su questa vicenda nel suo telegiornale siamo in conclusione parliamo soltanto dei 90 anni del Don Gio Cristo Re festeggia il sacerdote coraggio che sfidò il Covid e vediamo una bella foto emblematica di Don Giovanni eccolo al portone di Cristo Re e questa è la sua fotografia con la quale chiudiamo la nostra rassegna stampa dandovi però appuntamento come sempre alle 7 di domani grazie per l'ascolto a risentirci grazie per l'ascolto